Sull'ordine dei lavori, solo per far notare ai colleghi dei Cinque Stelle, soprattutto quelli con cui negli ultimi anni ho condiviso molte battaglie d'ambientalista, che sarebbe il caso di togliere una delle Cinque Stelle, restituiteci quella d'ambiente, e vi vorrevo far notare che il loro condone di lizio lo sta difendendo Forza Italia, quindi hanno anche il merito di aver ricompattato la maggioranza di centrodestra sul condone di lizio, veramente imperdonabile quello che state facendo.